Salve a tutti gli utenti di EveryEye, io sono JRevenge, oggi sono qua con un consiglio sulle classi da utilizzare per Advanced Warfare. Partiamo subito con un cecchino in circolazione, il Morse con CPU balistica e calcio. Come specialità troviamo leggero, basso profilo, prestigiatore, resistenza e proporzione furtiva. Allora, leggero ci aumenta l'agilità dei movimenti, basso profilo ci rende invisibile a UAV colpi traccianti ping exo, molto importante per la pubblica. Seconda specialità, l'essenziale, è prestigiatore, si sblocca il livello 43 ma è veramente molto fondamentale, quindi se prestigiate portatevi questa specialità qua. Ci dà la possibilità di avere ricariche durante lo scatto, cambi di arma, usi l'uso delle funzioni exo e si spara con il lanciatore exo più rapidamente. Quindi una sorta di gioco di prestigio che avevamo negli scorsi Call of Duty. Specialità 3 troviamo ben due specialità, resistenza, ossia concentrazione, che quando veniamo colpiti barcolliamo di meno. Seconda specialità della slot 3 è propulsione furtiva, invisibile sulla minimappa quando utilizziamo le funzioni exo. Quindi quando utilizzeremo le funzioni exo non ci vedranno sul radar, cosa che in realtà è possibile nel momento che noi non utilizziamo questa specialità qua. Come seconda arma utilizziamo l'MP443, un'arma a raffica di due colpi, ottima, oscilla poco, spara a raffica come ho detto prima di due colpi, quindi veramente veramente molto buona. Come serie di punti usiamo l'UAV, perché veramente su questo Call of Duty Advanced Dwarf non abbiamo molte alternative alle serie di uccisioni. Seconda arma è il KF5, KF5 la miglior mitraglietta ad oggi di questo gioco, mitraglietta con rigatura avanzata che ci dà la possibilità di avere una portata maggiore dell'arma, ossia i colpi di quest'arma andranno più lontano. Secondo accessorio troviamo Calcio Anteriore, Calcio Anteriore serve per ridurre il rinculo dell'arma, quindi quando noi spareremo l'arma tenderà a meno rinculare, ossia a oscillare sulla nostra visuale. Terzo accessorio Mirino Laser che ci dà la possibilità di avere una precisione più complessiva, quindi riusciamo con il nostro puntatore laser ad avere una precisione molto maggiore di quella normale con quest'arma, essendo una mitraglietta e essendo che da lontano fa veramente un pochino schifo. Specialità numero 1 troviamo Leggero e Basso Profilo, secondo Prestigiatore resistenza, propulsione e ripulsione furtiva. Queste sono le stesse specialità che ho utilizzato nella prima classe, ma questo perché? Perché sono le migliori per quest'arma qua, soprattutto perché è una mitraglietta, quindi si tende a rasciare, quindi ad andare contro i nostri nemici. E come funzione X troviamo Occultamento. Occultamento ci rende temporaneamente invisibili, dura per pochi secondi, ma ci dà la possibilità di rasciare, quindi farci sparire sul radar per qualche secondo e possiamo fare le nostre pushatine e magari tentare di fare una doppia o una tripla. Terza classe, un fucile d'assalto anche lui, HB-RA3, Mirino Red Hot, calcio anteriore e doppio caricatore. Il Mirino giustamente serve per una mila migliore. Calcio anteriore per non rinculare l'arma e doppio caricatore per avere una ricarica più veloce dell'arma. Come specialità troviamo leggero Antischage, Antischage è tornato da... era su Black Ops 2, è tornato su Advanced Warfare, ci subiamo meno danni da danni esplosivi, quindi se tirano granate, qualsiasi altra cosa esplosiva, subiamo meno danni. Seconda specialità, Prestigiatore, terza resistenza e proporzione furtiva come le altre e funzione Exo troviamo Overlock che ci dà la possibilità di fare molti movimenti più rapidamente. Quarta classe troviamo la K12G, Mirino Red Hot, calcio anteriore e impugnatura Fulminia. Troviamo impugnatura Fulminia che significa che è la sorta di estrazione rapida degli altri Call of Duty, ci dà la possibilità di avere un'impugnatura molto più veloce e quindi se siamo in un contraccolpo contro un nostro nemico al 1v1, da vicino vinciamo noi, salvo complicazioni, perché abbiamo impugnatura Fulminia che ci dà la possibilità di mirare più rapidamente. Troviamo leggero basso profilo, Prestigiatore, resistenza, proporzione furtiva e occultamento per renderci, come detto prima, più invisibili sulla minimappa. Ultima classe è il BAL27, l'arma più forte di questo gioco, al momento senza patch. È un'arma che è un fucile d'assalto ma è forte anche da vicino quindi può essere detta anche un ottimo SMG, Mirino Red Hot, calcio anteriore e impugnatura Fulminia. Mirino per la mira come ho già detto prima, calcio anteriore per non oscillare con quest'arma che già per sé è molto stabile e impugnatura Fulminia per avere una mira più veloce. Leggero, basso profilo, leggero per l'agilità, basso profilo per essere invisibile a UAV, Prestigiatore, resistenza e proporzione furtiva, funzioni exit, occultamento per renderci più invisibili sulla minimappa. Poi a vostra scelta potete scegliere se utilizzare Overclock per avere un bonus temporaneo sulla velocità o addirittura mettere una serie di uccisioni che a mio parere le migliori sono UAV, approvvigionamento e bombardamento. Bombardamento non è male però bisogna raggiungere una streak abbastanza alta. Detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito sempre a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e un saluto dal vostro Giasta Revenge.